Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare uno dei tre giochi che la Serpentarium, il Curte e il Moro, che ringrazio veramente da morire, grazie ragazzi, è sempre un onore collaborare con voi e anche un grandissimo piacere, ve l'ho sempre detto, ci hanno fornito il manuale della nuova edizione, che se non era dovrebbe essere una ristampa del 2019, qualcosa del genere, di Sine Requie. Sine Requie, penso ormai non abbia più bisogno di presentazioni, è un gioco che è uscito, mi ricordo quando mi sono fermato a parlarne con il Moro, l'ho fatto, eh, io mi ricordo di Sine Requie che lo comprai dieci anni fa e lui, mmm, alza, alza, vedi, alza, quindici, e lui fa, eh, quasi anche diciotto, venti. Cioè, e queste sono le cose che mi fanno sentire vecchio, anche perché, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che la prima edizione è uscita nel 2000, forse qualcosa del genere. Comunque, Sine Requie è un gioco italiano, completamente italiano, fatto da amanti dei giochi di ruolo, per altri amanti dei giochi di ruolo, e, eh, appunto, i due autori sono Matteo Cortini e Leonardo Moretti, appunto, il Curte e il Moro e i soprannomi. Ed è un gioco che, eh, è nato come primo loro progetto, con la Rosa in Poison, se non erro, e ora questa nuova versione è stata pubblicata dalla Serpentarium. Ed è un gioco ambientato in un ipotetico futuro, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sbarco in Normandia, ora vi faccio anche un assunto dell'ambientazione, dove i morti si sono risvegliati. Quindi, comunque, la prima tematica del gioco è un survival horror, molto, 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 e ancora più molto violento, ragazzi. Quindi è un gioco che consiglio a tutti, però, occhio, le considerazioni poi ve le do alla fine. E, eh, l'ambientazione parla, appunto, si sono risvegliati gli zombie, c'è stata un'apocalisse, non si sa se è l'apocalisse sesa in terra, come veramente tutti quanti pensano, o non si sa se sia stato un esperimento dei nazisti. Un po' come potrebbe essere, se vogliamo, anche in giochi come Wolfenstein. Un'idea del genere. Però è molto più plausibile un'apocalisse. E durante l'operazione Overlord, sulla spiaggia di Omaha Beach, ma anche tutte le altre, che avete visto, appunto, all'inizio dell'operazione Overlord, il 6 giugno del 1944, alle 6 di mattina, quindi 6 giugno alle 6 di mattina, 666, non a casa hanno scelto questa data, sbarcano sulle varie spiagge della Normandia. E qui sul manuale viene la citata, la più famosa, la più iconica, perché anche ci fu uno sterminio di migliaia di truppe alleate, di giovani combattenti che andavano al fronte, sulla spiaggia di Omaha Beach, in Normandia. E durante lo sbarco, è bello che è tutto narrato anche da soldati, ovviamente, ragazzi, inventate le storie e tutto quanto, però è narrato in prima persona, e ora poi vi dirò, perché questo regolamento l'adoro, e ve l'ho sempre detto, è il mio GDR in assoluto preferito, poi ce n'ho uno preferito per genere. Anzi, nell'horror, il mio preferito non è questo, è Call of Tulu, come tipo di ambientazione, perché adoro l'Hovercraft. Ma il mio GDR è preferito in assoluto e si ne requie. E comunque, durante lo sbarco in Normandia, sapete, dalle case matte, i tedeschi che sparavano le truppe alleate, che sbarcavano dai mezzi anfibie, dalle corazzate che facevano fuoco di sbaramento, gli americani, mentre i loro compagni morivano sulla spiaggia, li vedevano rialzare. E lì per lì, immaginatevi lo scompiglio, come dire, oh, t'hanno colpito, pensavo tu fossi morto, invece eri ancora in vita, abbracciare il proprio compagno, aiutare a rialzarsi da terra, magari, boh, con metà faccia portata via, oppure anche da una mina, una gamba esplosa, e il tuo compagno, appena rialzato, appunto quel giorno è il 6 giugno, gli americani non hanno preso la spiaggia di Omaha, non sono avanzati poi dopo, l'avete visto, in Normandia, in Olanda, e tutte quante poi la classica marcia che li ha portati fino a Berlino con la caduta del Reichstag, e gli americani, ma soprattutto gli alleati, hanno perso la guerra, perché non ce l'hanno fatta sbarcare, quindi le truppe naziste, che a loro volta hanno subito perdite, danni, e sono state divorate dai morti, hanno vinto la guerra, quindi non è tanto il fatto che la Germania, il Terzo Reich, abbia vinto la guerra, ma si sono arrogati il diritto di averla vinta, anche perché la Russia non è mai intervenuta, quindi la Russia a Berlino non ci sono arrivati, quindi Stalin non ce l'ha fatta a prendere Berlino. Le truppe americane sono state completamente distrutte, si sono ritirate in America, quindi gli alleati hanno perso la guerra, e Francia e Italia ovviamente fuori dai giochi completamente, i partigiani francesi che non ce l'hanno fatta a riprendere la città di Parigi e tutta quanta la Francia, e gli italiani che si sono chiusi nella loro penisola. E quindi la Germania per quanto non ha vinto, perché non l'ha vinta proprio in maniera vera e propria sul campo di battaglia, ma si sono arrogati il diritto, appunto perché gli alleati hanno fallito l'operazione Overlord, di aver vinto la guerra. E ovviamente la Germania ha preso tante nuove terre, perché ha preso l'Olanda, ha annesso la Danimarca, ovviamente ha preso anche parte della Svezia con la Norvegia per le fabbriche minerarie e cose del genere, stazioni petrolifere, come se non bastasse hanno preso anche la Svizzera, quindi la gran parte dell'Europa centrale è stata completamente presa dal Reich, che ora dal Terzo Reich si è trasformato nel Quarto Reich. Hitler è morto, Mussolini, ah le storie sono diverse, Mussolini è stato rincorso e non è stato fucilato e appeso a testa lì in giù, ma è stato bruciato vivo, insieme ovviamente alla compagna e altri che erano con lui fedelissimi. Hitler è morto durante il tentato omicidio portato avanti dal colonnello von Stauffenberg, che l'avete visto nel film Operazione Valkyrie, quello interpretato da un magistrale bravissimo, al solito Tom Cruise. Quindi è rimasto ucciso nel bunker del lupo, Hitler è morto, quindi Operazione Valkyrie è riuscita, a differenza del reale svolgimento dell'azione che poi dopo si salvò, vi ricordate, e fece la telefonata a Goebbels, invece lì è morto, e il primo che ha preso il comando dopo di lui, che a parte è morto anche Goebbels, sono morti tutti, quelli più famosi Rommel sono stati uccisi e decimati, quello più famoso era il generale delle armate della Wehrmacht, che era il generale Reichmann, e al momento che è morto Hitler, lui ha preso il comando come nuovo, tra cento virgolette, Führer, alla guida del Reich. Nuovo Reich, che a differenza di quello che un tempo era guidato unicamente da una persona, Hitler, adesso il nuovo Reich è governato da varie figure, ad esempio c'è Reichmann, che come nuovo, o ben Führer, o come si chiamano ragazzi, non li so, ai gradi in tedesco, comanda tutta quanta la parte armata della Wehrmacht, poi c'è un altro che invece comanda la Gestapo, c'è un altro ancora invece che comanda le SS, quindi come vedete c'è un gruppo di nuovi leader, che comandano questa nuova Germania nazista, il quarto Reich, che ragazzi è molto, molto, molto peggio rispetto al terzo. Se le cose reali, storiche che avete sentito sul terzo Reich, sono veramente da vomitare, e devono fare schifo a priori, queste sono molto peggiori. E, siamo nel 54, quindi l'ambientazione rispetto al 44 è andata avanti di 10 anni, 54, 55, una cosa del genere, e come vi ho detto, la Germania ha vinto la guerra. Quindi la Germania ha vinto la guerra, hanno portato avanti il quarto Reich, però il problema dei morti è un problema di tutti, quindi è un problema che sta asserilando tutte le città, e il mondo si sta un pochino più raggruppando dietro le mura, per tornare fortificati, un po' come nel Medioevo, laddove si cercava riparo dentro fortezze, o qualcuno famoso che è riuscito a prendersi un castello medievale, come vedremo poi nell'ambientazione italiana, castello medievale, tipo di malaspine, cose del genere, per reggere l'assalto dei morti. Morti che, ovviamente, vengono etichettati e catalogati, da una specie di dottor Van Helsing, che in questa ambientazione si chiama dottor Pelagatti, che è praticamente un italiano, del San Tom Imperium, che è stato condannato ovviamente come eretico al rogo, infatti è scappato dall'Italia, che ora all'Italia si chiama San Tom Imperium, ora ve ne parlo, è scappato e lui gira tutto il mondo per scrivere il Sine Requie, che è il libro che avete tra le mani, infatti hanno avuto una figata, perché il Sine Requie che avete qui, non è soltanto il libro delle regole del gioco, ma è il vero libro che ha scritto il dottor Pelagatti, per aiutarvi a comprendere queste nuove forme di non morti, che ce ne sono tante, non è un The Walking Dead dove c'è il classico morto che va avanti e finisce, ce ne sono 7-8 tipi, addirittura alcuni ancora senzienti, e io è una cosa che veramente, ve lo dico sincero con tutto il cuore, e è una cosa che non ho mai fatto almeno per ora, purte e moro, io per aver creato questo gioco vi voglio bene, ve lo dico proprio sinceramente, e spero di riuscirvela a far capire, con questo video è quello che vorranno, ragazzi grazie di esistere, perché avete creato tutto quello che ho sempre desiderato, e che scrivendo un romanzo su Amazon un po' mi sono ispirato, sia a voi che allo zio Romero ovviamente, che tra l'altro sono andato a vedere un anno prima che morisse a Lucca, quando fece la manifestazione al teatro, e sono stato contentissimo di averlo conosciuto, ma avete creato qualcosa non solo che rende onore ai fan di Romero, io non sono fan di The Walking Dead, ora, di The Walking Dead mi piace Nigel, mi piacciono il governatore, mi piace Rick Grimes, mi piacciono Shane, i personaggi ci stanno, poi anche nella serie televisiva mi piace anche un Daryl, è una mission, però, ma dove cazzo esiste che per ammazzare un morto, un morto, che ripeto, uno zombie è un morto, no un non morto, un morto, cioè, non hanno fame, non hanno sete, non provano dolore, non provano paura, non hanno bisogno di mangiare, non hanno bisogno di fare niente, li spari in testa e muoiono, ma perché? Perché in The Walking Dead c'è la concezione che il cervello ancora manda qualche scintilla al corpo, ma se è morto è morto, cioè nel film di Romero non lo ammazzi gli zombie, non si fermano mai, se voi distruggete completamente uno zombie, li date fuoco e vi dimenticate del braccio sinistro, il braccio sinistro di quello zombie continuerà a seguirvi, ad artigliarvi per l'eternità, li dovete sciogliere nell'ascio, da bruciare completamente, è quello che loro hanno fatto nella meditazione, però, in un gioco con la meditazione di The Walking Dead abbiamo lo zombie, punto, poi abbiamo ovviamente i briganti, abbiamo, che poi si salverà il problema, anche qui in Senerecchi sono gli umani, abbiamo gli umani nel mezzo che rompono le scatele, però il problema principale dovrebbero essere i morti, comunque anche in maggior numero, però dopo 100.000 che ne ammazzi, uno passa la paura, ed è una cosa che io odio, cioè alla fin fine, vedete come già nella seconda stagione di The Walking Dead, non c'ho più paura nemmeno dei morti, ma perché sono tutti uguali, sono quelli classici, si muovano così, non fanno nullo, tutto gli spari in testa e muoiono, cioè ha anche un bambino, l'avete visto, col cortello, tira una vortellata, lo zombie l'ammazza, in questo manuale, scritto dal dottor Pelagatti, no, perché i morti sono di diversi tipi, e ora che poi ve li vado a descrivere, comunque per finire velocemente l'ambientazione, questa è la Germania, il quarto Reich, che è molto peggio di prima, ragazzi 100.000 volte, se v'hanno fatto schifo le ose di Hitler, queste sono due volte peggio, e hanno, addirittura hanno levato dalle scatole, per non dire altro, il cattolicesimo, che gli andava molto stretta la loro concezione, anche perché lo sapete, Hitler era molto legato a culti, tra molte virgolette anche qui, culti pagani, quindi Hitler era quello che si era portato in casa, la statua, il busto di Nefertiti, e se la guardava, praticamente se la baciava dalla vetrina, perché per lui Nefertiti era la sua regina, cioè pensate che testa ci aveva, oppure anche il culto delle SS, che sapete sono due rune, quelle che erano sul colletto, e sulle fasce girobraccio delle SS, che erano due rune viching, quindi normanne, e in questa ambientazione qui hanno formato, fondato, scusate, la chiesa teutonica, la chiesa teutonica, che vede i precetti dove tutti, la razza ariana è l'unica consentita, le razze inferiori devono essere schiacciate, addirittura in questa ambientazione qui, tutti quanti gli ebrei sono stati rastrellati dai ghetti, completamente, e la Germania, almeno così dicono, poi ce n'è altri ovviamente, però la Germania è stata al 109% ripulita da tutti gli ebrei, non ce n'è più, l'hanno messa nei campi di reeducazione, che sono i vecchi campi di concentramento, tipo Birkenau, quelli lì, e tutti quanti i rimossi partigiani, insomma, in Germania sono tutti ariani, addirittura i bambini piccolini, vengono allevati come ariani, vengono fatti crescere, ormai sono quasi provette in laboratorio, bianchissimi di carnagione, e tutti quanti biondi con occhi azzurri, dal primo all'ultimo, e vengono addirittura avanzati ai dettami di questo nuovo Reich, laddove un bambino già a 10 anni sa maneggiare tranquillamente una pistola e un mitra, e magari a 12 anni fa parte delle SS, o perché no della polizia, la Gestapo, e questa chiesa teutonica con tutti i loro precetti e tutto quanto, però in questa chiesa, per quanto hanno cardinali e figure del genere, un po' come nel cattolicesimo, non hanno un papa, non ce l'hanno, perché per loro la figura finale del papa, ce l'ha soltanto il Führer, che il Führer era Adolf Hitler, che è morto, e loro aspettano l'avvenuta del nuovo Messia, che sarà il nuovo Führer, che prenderà il posto del papa, cioè, pensate, Kurt e Moro per aver creato un'ambientazione del genere, ciao, veramente fuori di testa. Si passa alle terre selvagge, o comunque terre perdute, che sono tutta quanta quella parte che comprende tutta quanta la Francia, comprende la Spagna, comprende il Portogallo, sono quelle terre, tra molte virgolette, inesplorate, ma che poi non lo sono, se comprate manuali sono molto esplorate, però, visto in chiave dei sopravvissuti del Dottor Pelagatti, che magari non l'hanno mai girate, non si sa che cosa ci sia, e quindi non c'è niente, e sono terre selvagge inesplorate, dove vige la legge del più forte, morti tu a vita mea, quindi ti trovo pensata da ammazzo, ti rubo tutto, e dove i morti sono molto più rispetto alle altre nazioni, che invece riescano a bonificarli, a contenderseli, e a chiuderle e distruggerle, è la cosa più importante, l'America, c'è un primo contatto con l'America, perché è arrivata una nave, che afferma, con delle truppe americane di Marines, sono arrivati un centinaio di Marines, che affermano che l'America esiste ancora, gli Stati Uniti si sono raggruppati ancora una volta, e c'è un nuovo presidente eletto, per quanto gli Stati Uniti, e ora qui qualcuno mi dirà, ma questa l'ho già sentita da qualche parte, sono stati bombardati, con due testate atomiche, una su New York, e una da un'altra parte, che ora mi ricordo dove, sinceramente, comunque la prima su New York, e hanno distrutto, il Reich ha distrutto, con la bomba atomica, gli Stati Uniti, e le ha inginocchiati, ricorda un po' The Man in the High Castle, per farvi capire, infatti secondo me si sono ispirati da morire, sia Wolfenstein, che questa ambientazione qui, e però dell'America non si sa niente, sembra che stiano tornando, la Russia, che è quella un pochino più strana, la Russia, visto che non riusciva a resistere alla morsa, al gelo, ma soprattutto all'avanzata dei morti, in campo aperto, dopo averne toccate, in guerra dal Reich, si sono chiusi, hanno costruito queste specie di alveari, sbucano, per fate conto, 50 metri fuori dal terreno, sembra proprio dei formicai, dei formicai immensi, magari larghi anche un chilometro, ed alti fino a volte a 80-100 metri, però la cosa bella, è che quella è la punta dell'iceberg, sotto terra, in profondità, sono le vere e proprie città, quelle sono soltanto le cupole, quindi se fuori sbucano 80 metri, sotto va giù anche per 1-2 chilometri, hanno fatto queste città formicaio, che vanno verso il basso, e ovviamente sono divisi, come la Russia di Stalin all'epoca, sono divisi in classi, lassù, da dove? In cima ci sono le classi più ricche, più potenti, quindi anche persone che un tempo erano ricchi, erano membri della famiglia dello zarro, cose varie, e poi si va sempre più in basso, verso la parte finale, dove ovviamente ci sono gli operai, che non contano niente. Ora, l'ambientazione quella della Russia, è bella, e ora poi vi vado a descrivere perché, perché intanto è la più, ragazzi, fra 20 virgolette, tecnologica, che c'è in tutta l'ambientazione, però gli uomini sono dei meri codici, soprattutto quelle delle fasce più basse, gli operai, quindi, quando andrete a creare un personaggio, non lo creerete, dandogli soltanto nome e cognome, ma anche un numero, un codice, e il manuale vi spiega come, perché siete tutti quanti codici, con le targhette, che lavorano per scavare, però uno potrebbe dire, ma dell'ambientazione della Russia, è tutta lì, trattenuta in questa, a parte queste città alveari, ragazzi, sono talmente grandi, che potrebbe essere una Milano, solo costruito in altezza e in profondità, in queste città qui immense, però sono anche belle come ambientazioni, perché ci sono dissidenti, ci sono ribelli, c'è gente che non si adatta a fare una vita di merda, passatemi il termine del genere, però la cosa bella è che sono governati da Zar, che è scritto Z.A.R. che è una nuova intelligenza artificiale, tipo una specie di occhio del grande fratello, che le va a monitorare tutti quanti che lavorano e che stanno attenti, quindi colui che comanda la nuova Russia, è un'intelligenza artificiale, tra l'altro è bello perché mischiano questa ambientazione qui, un po' a una specie di cyberpunk, abbiamo poi l'Italia, il Sanctum Imperium, che praticamente è tornato a una specie di medioevo, però anche lì un medioevo un po' strano, perché gli usi e costumi, i vestiti sono rimasti quelli del 44, di quando praticamente c'è stato il giorno del giudizio, con il fallimento di operazioni Overlord, però siamo tornati al medioevo, infatti il nuovo Papa Leone IV, se non erro, si è investito della carica di leader supremo, quindi ora è proprio il Papa, che comanda appunto questo stato papale, ha decretato che tutte le tecnologie di un tempo dovessero andare distrutte, e chi le userà ancora potrà essere passibile tranquillamente di alto tradimento ed eresia. Quindi tutte quante le macchine a benzina sono state tolte, che poi vengono utilizzate, perché non è difficile vedere Papa Leone IV, guardo che va a giro con la macchina blindata nera classica del Papa, però tutte le altre persone sono state vietate, uguale i denti che le armi da fuoco, quindi la gente continua a vestire come nel 44, nel 40, però vivono come nel medioevo. Addirittura è stata tagliata in alcuni punti anche l'elettricità, quindi siamo tornati al lume, alle candele, cose del genere, però se andate al Vaticano, sembra invece di essere ancora nel 44, con macchine, con, perché l'Italia ha ancora cari armati e mezzi, però come ho detto sono stati vietati e il Papa ha ritirato fuori molto forte e in vigore, forse più che anche nel passato e nel medioevo, il culto dei Templari, quindi ancora una volta sono tornati in vigore i Templari, che ora rihanno un gran maestro, e tutti quanti i giovani possono essere portati in questi luoghi di culto, templi, dove possono diventare cavalieri del Tempio, che vanno a difendere non soltanto il Papa, ma soprattutto vanno a bonificare tutte le altre terre. Si spostano anche a volte fuori dall'Italia, però per la maggior parte stanno a bonificare appunto il Sanctum Imperium, e tante città come Ravenna, Milano e altre, Livorno non è nemmeno citata, sono state completamente liberate dai morti, grazie a questi Templari. Li dovete vedere vestiti come dei Templari all'epoca, con l'armatura medievale e tutto, solo che hanno una spada lunga, con la motosega, con la catena intorno e praticamente li sminellano, li sminuzzano, li spaccano, ed è una cosa bellissima, perché fra tutti i personaggi, vi giuro che avrei voglia di creare giocando un'avventura del genere, è un Cavaliere Templare. Poi ci sono i preti, che fanno le vesci della città, ci sono i Cardinali, i Vescovi, siamo tornati proprio nel Medioevo, e poi ci sono gli Inquisitori. Gli Inquisitori vengono seguiti da una nuova polizia, e quei Excubitores, se non erro si dovrebbero chiamare, perdonatemi se ho sbagliato, ma ci sono 3000 nomi nel manuale, che praticamente sono andati a sostituire i Carabinieri, proprio dice il manuale, i Carabinieri di un tempo, che c'erano fino al 44, sono stati sostituiti da questa nuova polizia, al servizio degli Inquisitori, e sono gli unici, gli unici che possono andare in giro con mezzi, quindi gli Inquisitori si muovono a cavallo, ma si possono anche muovere in macchina e tutto, ricordatevi che la benzina, ragazzi, è rarissima, e poi vi dico soltanto chi ce l'ha, ma ve lo potete immaginare, però si muovono più che altro a cavallo, e sono gli unici che possono portare armi da fuoco, quindi soltanto a questi ex cubitores è consentito portare, magari mitra, fucili, fucili da cecchino, pistole, insomma quant'altro, che a tutte le altre persone è vietato, ed è vietato anche nella maggior parte dei casi, anche ai Templari, e ovviamente siamo in uno stato, ragazzi, in un'azione come potrà mai essere, secondo voi, una nazione oscurantista, una nazione dove c'è da avere paura anche per il coprifuoco la notte, una nazione dove il Papa e la Chiesa comandano, quindi insomma, per il dottor Pellagatti stesso, che ha fatto questa guida per salvarci tutti quanti dal culto dei morti, dalle zombie, per capire anche come funzionano, è stato dato per eresia, è messo a rogo, quindi è scappato, quindi c'è da stare attenti, insomma, siamo tornati nel periodo più oscurantista. La benzina è un bene rarissimo, più che Mad Max, la benzina, prendendo la Norvegia, puzzi petroliferi, Svezia e tutto, chi ce l'ha? Il quarto Reich. Infatti, all'inizio di questo manuale ci spiega che il quarto Reich si sta riarmando, come all'inizio della seconda guerra mondiale, e le fabbriche sono tornate attive, forse anche di più, rispetto all'inizio della seconda guerra mondiale, quindi stanno sfornando Stuka, stanno sfornando U-Boat nuovi, stanno sfornando Tiger, Panzer, insomma, si stanno riarmando da morire, uno, perché si vogliono prendere Sanctum Imperium, che ora, visto che sono tornati all'epoca del Medioevo, la Germania non aspetta altro, anche perché l'Italia ce l'ha un po' di contraere ancora pronte, per i Messerschmitt o per gli Stuka dei tedeschi, ma comunque, essendo tornati tra molte virgolette nel Medioevo, insomma, non è che siamo tanto difesi da attacchieri, e poi, soprattutto, vogliono prendersi tutta l'Europa, vogliono riprovare l'attacco un'altra volta alla Russia, per quanto l'hanno fallita ai tempi di Stalin, e si vogliono riarmare per prendere Parigi, perché Parigi, non sono ancora riusciti a prenderla, perché Parigi è divisa in due da un muro, tipo il muro di Berlino, per farvi capire, da una parte i partigiani francesi, che piano piano stanno cedendo, e dall'altra parte, la parte della Tour Eiffel, è stata completamente presa dal Quarto Reich, dall'asse, che ora poi, a parte l'asse non esiste più, e quindi stanno cercando di riprendersela, poi si parla di altre ambientazioni, però metto le mani avanti, perché non le ho mai lette, e sono usciti altri vari manuali, uno sulle terre selvaggi, uno addirittura sui nuovi Stati Uniti d'America, dove addirittura è tornato il Ku Klux Klan, c'è un'altra volta, quindi, mamma mia, cose bruttissime, terzo, se non ero, si dovrebbe chiamare il trono di Krisiantemo, qualcosa del genere, che in Giappone sono tornati ovviamente al tempo di samurai, mamma mia, boi, sono già la pelle d'oca, e il regno di Osiride, questa è una figata, ma questo vi dico la verità, giuro morissi, io avevo la prima edizione, di Sine Requie, e nella prima edizione, non c'era ancora questo manuale, perché la comprenne 2000-2001, dissi, quasi così, ci starebbe bene un'ambientazione dove in Egitto, giuro eh, si risvegliano i faraoni, e infatti l'hanno fatta, e si sono risvegliati, si sono risvegliati i vari faraoni, che si fanno guerra fra di loro, e quello più importante è il Ramses III, che anche in Egitto siamo tornati appunto, a una civiltà basata sul 40-44, non so ma quando è finito il mondo, però allo stesso tempo, riguidata ancora una volta dai faraoni, ora l'ambientazione ci ho messo un po', ragazzi, a spiegarvelo, questo video verrà lungo, ma perché non è un'ambientazione, da spicciola, da parlare velocemente, e della parte più importante, parlando di zombie, la cosa che mi ha colpito, e poi vi dico le regole del gioco, ma ve le dico velocemente, anche perché è un ciò a tarocchi, quindi c'ho poco da farvi idee, parlando di non morti, in questo manuale è bellissimo, perché ci sono i non morti larvali, sono degli zombie normali, come gli altri, solo che non riescano a muoversi, hanno il corpo ovviamente, sono come larve, anche se hanno tutto, braccia, gambe, come gli altri, perché magari non sono stati martoriati, e cose del genere, stanno stesi per terra, non si muovono, non fanno altro che lamentarsi, fare i classici versi da zombie, sono i gutturali, e dell'oltretomba, però non fanno niente, quindi fino a che qualcuno non gli porta da mangiare, o non gli cade fra le fauci, quelli non fanno nulla, poi ci sono i morti normali, i simplex, che sono quelli classici, alla walking dead, che vanno in gira e tutto quanto, non hanno coscienza, quindi se la tiri in un campo minato, ci vanno nel mezzo, se la tiri in un burrone, si buttano di sotto, e quant'altro, ci sono i non morti, quelli un po' più intelligenti, sviluppati, che praticamente sembrano che abbiano ancora un barlume di umanità, un barlume di umanità, e sono quelli che, come gli altri non morti, ovviamente non hanno facoltà di parola, e cose del genere, però, hanno un pochino più di istinto di sopravvivenza, se loro da una parte, da una scintilla, vedono che il primo di loro, va in un campo minato ed esplode, il secondo non ci passerà, ma cercherà ad aggirarlo, stessa cosa, fanno l'esempio, in un ponte, se tutti si buttano di sotto nel vuoto, in un burrone, quello lì si ferma, e rimane a guardarvi dall'altra parte, fino a che non trova una maniera da aggirare, quindi come vedete, ancora un po' di coscienza ce l'hanno, passiamo ovviamente ai Ferox, che sono quelli in assoluto più pericolosi, sono stupidi come, stupidi va bene, nel senso sono morti come Simplex, quindi se c'è un burrone si buttano di sotto, e cose varie, però, sono delle creature velocissime, immaginatevi un po' l'Hunter di Left 4 Dead, quindi quello che corre a quattro zampe, sono velocissimi, hanno un fiuto, tra 50 virgolette, che ora vi spiego, molto più ampliato rispetto agli altri, e sono creature che non sono intelligenti, come i secondi che vi ho detto, però comunque sono bestiali veloci, e sono molto più forti e veloci di una persona, per poi passare Ferox, si dovrebbero chiamare Ferox o qualsiasi del genere, che sono invece morti intelligenti, questi proprio hanno, non si sa come, il dottor Pellagatti stesso, dice che si è cagato addosso, la prima volta ne ha visto uno, perché non se lo spiegava, addirittura riescono ad usare armi da fuoco, riescono a guidare veicoli, e addirittura riescono ancora a parlare, e riescono ad organizzarsi in gruppi, quindi sono, sì, sono più lenti, sono putrefatti, hanno sempre bisogno della carne e quant'altro, però, sono la via di mezzo fra lo zombie, e una persona ancora effettivamente viva, e sono quelli più strani di tutti, perché non è strano magari, che cerchino di confondersi per persone ancora in vita, e appena poi li date le spalle vi mordono, quindi sono difficilissimi da riconoscere, nel mezzo a tutti questi, ce n'è un altro tipo, che sono quelli più strani, ma secondo me la figata che hanno avuto, sono non morti che non hanno più il senso della fame, di mangiare carne umana, perché in questa ambientazione si mangia carne umana, mangiano, però, in assenza di carne umana, mangiano anche carne animale, ovviamente, anche gli animali si convertano come morti, questi morti qui che vi dicevo, di cui non ricordo il nome, rimangono a fare le cose, che hanno fatto nell'uno barra due giorni prima della morte, oppure cose che hanno fatto per tutta la vita, che ne so, un contadino che per i suoi ultimi 30 anni di vita ha zappato un campo, quando diventerà uno di questi morti, starà tutto il giorno a zappare il campo, poi andrà a letto, alle 8 come faceva tutte le sere, si rialzerà al canto del gallo, e riandrà a zappare il campo, qui fa l'esempio di uno dentro una chiesa di roccata, che ha fatto l'organista in chiesa per una vita, e che continua a suonare l'organo, occhio, non hanno la fame e il senso di doversi nutrire come le zombie, però se li passate davanti, vi mordono, a quel punto lì ovviamente sono come quelli larvali stesi per terra, se proprio le andate a stuzzicare, ovviamente sono sempre zombie, però non hanno facoltà di parola, non hanno niente, continuano a fare quello che hanno fatto per tutta la vita, nel caso di un soldato, magari andrà sempre al fronte a combattere cose varie, qui gli zombie sono visti una chiave particolare, perché non li spari in testa, non possono morire, non hanno la fame sempre che ti devono divorare, cose del genere, però, e anche loro si devono nutrire, perché se no, se non si nutrano almeno una volta ogni due o tre mesi, la putrefazione va avanti, e anche loro sono corpi in putrefazione, però non esiste sparargli la testa per fermarli, vanno bruciati, vanno sciolti nell'acido, vanno insomma, vanno distrutti, come nei film di Romero, se avete visto il cemitero dei morti viventi, non vi devo spiegare niente di più, per fermare uno zombie, la cosa migliore, è distruggere le parti del suo attacco, quindi il morso, o le unghiate, vi faccio l'esempio, i templari del Sanctum Imperium, li tagliano a metà con la motosega, e poi li lasciano lì, perché anche il corpo resta in terra, magari cercherà di muoversi, di morderti, però, se già riesce a distruggere la testa, e distruggere le braccia, anche se lasciate un tronco che si muove senza braccia, senza testa, cosa fa? Vi prende a calci nel culo, quindi voglio dire, fino a un certo punto, sono resi inoffensivi, e questa ragazzi, è a grandi linee, ma molto più complessa, l'ambientazione del gioco, ora, le regole, non ve le sto a far vedere, nel frattempo vi faccio vedere un po' di immagini, del manuale, cose del genere, l'avete già visto in tutto il corso del video, perché, si gioca con, carte da gioco, carte normali, quindi, qualsiasi tipo di carte da gioco, le potete prendere, che avete in casa, con le quattro figure, ovviamente, il jolly viene tolto, quindi nel caso di carte da poker, il jolly toglietelo, quello non c'è nel regolamento, però tutte le altre figure vengono usate, e con, qui vengono chiamati nel gioco, arcani minori, che sono le carte da gioco, e arcani maggiori, che sono i tarocchi, quindi, se nel caso avete, boh, dei tarocchi in casa, o se no, tanto trovate il link in descrizione, comprate quelli loro, la scatolina da 20 euro, che dentro ci sono arcani minori, quindi carte da gioco, tra l'altro disegnate da paura, e arcani maggiori, una delle regole principali di questo gioco, è che te hai, una caratteristica, e un'abilità, di solito, di solito, le caratteristiche, si possono usare anche da sole, per fare delle azioni, ed hanno un valore, che vanno da 1 a 5, a volte anche di più, possono anche salire, e la stessa cosa, le abilità, per quanto le abilità, poi possono salire di numero, arrivare anche molto più in alto, possono arrivare anche a 10, sfondare, arrivare più in su, però comunque, fate conto, sparare con un'arma da fuoco, ti potrebbe andare su una caratteristica, tipo agilità, o cose del genere, oppure, usare un'ash addumani, ti potrebbe andare, sull'abilità di corpo a corpo, e sulla caratteristica forza, te guardi il valore, che c'hai nella caratteristica, 4, te guardi il valore, o il grado, che c'hai, nella abilità, magari 2, quindi, in tutto hai 4 più 2, 6, te devi andare a pescare, a seconda delle azioni che fai, dal mazzo degli arcani minori, le carte da gioco, girate le carte, e praticamente, il valore, il semi per ora, lasciatolo da parte, serve per altre cose, però il valore, che viene fuori, che ne so è venuto un 5, è quello che voi dovete fare, uguale, o meno, della vostra caratteristica, per aver mandato un colpo a segno, quindi, se avete un valore di 8, dovete tirare, numeri da 8, in giù, ok, e le figure fanno cose particolari, ci sono figure, che ad esempio, fanno fare un successo critico, invece, dove figure, vi fanno fare un fallimento completo, ci sono poi gli arcani maggiori, tra virgolette, tarocchi, che sono quelli, che tirate fuori dal mazzo, per vedere ad esempio, il colpo dove ha colpito, perché ci sono anche le location, almeno che non andate a mirare, quindi, se il colpo ti ha preso una gamba, ti ha preso la testa, ti ha preso il petto, e poi servono ovviamente, per tantissime altre cose, e il regolamento, del gioco, è, non complesso, però ci sono, perché il regolamento è facilissimo, però ci sono tante tabelle, e ci sono tante cose da tenere a mente, per quanto il gioco, ti dà due varianti, cosa che io adoro da morire, ti dà la variante che, o lo giochi, come vi ho detto ora, con gli arcani minori e maggiori, quindi, prendi il mazzo di carta, di cosa ti è avvenuto, e te lo ricorderai, prima o poi, vai a vedere la tabella, e guardi cos'è successo, ho fatto meno della caratteristica, meno di qualche figura particolare, e l'azione è andata a compimento, oppure, il gioco ci dà anche, una variante puramente narrativa, quindi, per tutti quelli di voi, che si vogliono affidare alla narrativa, del dungeon master, e non vogliono andare, stavo per dire tiradadi, girare carte e cose del genere, levate i tarocchi, scusate, levate gli arcani minori, prendete gli arcani maggiori, giocate solo con i tarocchi, quelli che avete nella scatola, e praticamente, voi prendendo il manuale, c'è una tabella, andate a girare questi tarocchi, a seconda delle azioni che fate, quindi potreste fare un'azione, potreste farne due, le andate a girare con un bonus, o con un malus, che vi potrebbe dare l'azione che volete fare, oppure il master, perché un'azione difficile potrebbe darvi un malus, un'azione particolarmente facile, potrebbe darvi due bonus, andate a girare il tarocco, che ne so esce la papessa, l'appeso, la morte, andate a guardarli, e a seconda del bonus, o del malus che vi è stato dato, c'è una tabella che vi dice come va avanti l'azione, e il gioco diventa molto più narrativo, per quanto con la prima regola, quella di usare le carte da gioco, lo vedete subito, cioè ho fatto un'azione, quanto c'ho? 5, ho fatto 8, mancato, ho fatto 1, ho colpito, quindi è molto più veloce, quell'altro è più bello, perché il gioco diventa molto più narrativo, però il dungeon master deve tenere tante cose a mente, e soprattutto dovete stamparvi una tabella, e mettervela davanti, perché tarocco morte dice, ah, il problema è che il tarocco morte, con un pregio dice B, e il tarocco morte con un malus dice C, quindi già un tarocco dovete interpretarlo 3 volte, ed è impossibile per tutti quelli che ci sono le varie varianti, quindi con la tabella accanto dovete, giro il tarocco, voleva dire, eccolo qui, secondo me, da una parte è più bello, perché è narrativo, da una parte è più brutto, perché il gioco si rallenta, comunque ragazzi, questa è l'ambientazione di Sienereque, è un gioco che è nato, non me ne voglia nessuno, mi sembra nel 2000, e questa nuova ristampa è del 2019, che tra l'altro è la seconda edizione fatta da loro, riveduta, corretta, ampliata nell'immagine, anche perché ora il manuale è bello corposo, sono tipo 200 pagine, i primi manuali, mi ricordo, in 300 pagine c'erano, il manuale e tutte le espansioni erano piccolini, erano tipo libretti, quindi l'hanno fatta molto più ampliata come versione, ed è bello perché, uno, è narrata bene, due, una cosa che adoro, il manuale di Sienereque, in questa nuova edizione, c'ha un terzo del manuale sono regole, e due terzi sono ambientazione, ed è quella la cosa importante, perché è inutile che mi fai 200 pagine di regole, che tanta in testa non me ne terrò mai, poi soprattutto se siete un gruppo di persone, che oggi giocano questo, domani giocano un altro, quindi non è che giocate solo a questo, che allora vi rimane in testa, e ancora di più, è tutto narrato in prima persona, o dal dottor Pellagatti, o se no, ad esempio, il quarto Reich, è tutto quanto scritto a macchina, da un dissidente, del nuovo Reich, un tedesco, che non ne vorrebbe sapere nulla, se voleva arrivare dalle balle, perché li odia, vorrebbe scappare in Italia, con un contatto che c'ha di là, e scrive questa lettera, magari nascosto, sperando che non ci siano le SS, o la Gestapo, che lo studiano, e ti racconta, com'è il quarto Reich, in prima persona, ad esempio, c'è non altro, una controparte, che scrive invece una lettera, scritta a mano, nel Sanctum Imperium italiano, che ti spiega appunto, come funziona, ed è una figata assurda, questo manuale, perché, sono riusciti, a calarvi, c'è da morire, hanno creato un'ambientazione, nuda e cruda, veramente fatta benissimo, ora, l'ambientazione, ragazzi, è forte, è molto cruda, si usano parole, come addirittura stupri, si usano parole come ebrei, si usano parole come nazisti, si usano parole, ovviamente come rastrellamenti, campi di rieducazione, cioè un'ambientazione, reale, ma cattiva allo stesso tempo, cattiva, se vai a prendere un contesto, come quello della seconda guerra mondiale, e ci rimetti le forze dell'epoca, non ti puoi nemmeno aspettare, non potevi fare che i tedeschi, per quanto io odio i nazisti, mi fanno cagare, però che sparano fiorellini, cioè, non sarebbe stata un'ambientazione credibile, è un'ambientazione forte, ed è un manuale, che secondo me è per tutti, è un gioco che è per tutti, però, per quelli facilmente emozionabili, che magari cercano un contesto, un pochino più leggero, o facilmente emozionabili, o che sono molto soggetti, appunto, a questo tema qui, insomma, pensatecene un attimino, magari prima fatevelo consigliare da un amico, provate a fare una partita, ecco, perché l'ambientazione è molto cupa, qui non c'è scampo, pepe, scherzi, cavolate, il momento di risata, carino, qui ci sono i morti che ti divorano, e quando scappi le morti, da una parte sei schiacciato, veramente, da queste potenze europee, che tutti quanti tirano l'acqua al su mulino, quindi, se le devo dare un voto, a quello che vi ho sempre detto, è in assoluto il mio gioco preferito, ma non ve l'ho mai nascosto, perché ci sono cresciuto, insomma, siamo nel 2020, io sto gioco l'ho iniziato a giocare nel 2000, ho comprato la primissima edizione, non ne posso che essere ovviamente stracolpito e innamorato, quindi, se le devo dare un voto, vi do un 10 su 10, meritatissimo, e questo, come gioco fatto in Italia, secondo me, è quello che, forse, più di tutti, mi fa sentire veramente orgoglioso, per una volta di dire, anche in Italia, si riesce a fare qualcosa di veramente bello, non che in Italia non si sa poi a fare niente, per l'amor di Dio, è un discorso che a me mi fa schifo, non lo voglio in mezzo in TD, però, di solito, i giochi più belli, tipo Dungeons & Dragons, vengono dall'estero, no, Wizard of the Coast, oppure The Expanse dalla Green Ronin, cioè, sono tutti quanti titoli che vengano sempre da fuori, capito, non siamo mai abituati a vedere, però anche in Italia, ci sa dei prodotti da paura, perché ci sa Sienerec, ci sa l'ultima torcia, l'ultima bomba, ci sa le cronache di Populon, ci sanno dei giochi che sono fatti in Italia bellissimi, e un CDVN, niente a nessuno, e tante volte, anche voi ragazzi, cosa c'ho? I giochi di ruolo, via, D&D, o quell'altra cosa c'ho? I giochi di ruolo, sì, D&D, quinta edizione, ma invece di andare a comprare questi cavoli di manuali dall'estero e tutto, ragazzi, guardiamo cosa ci sa in casa, che ci sa della roba da paura, veramente, e questo, secondo me, fra tutti, è una ambientazione molto particolare, ed è il portavoce, questo porta proprio la bandiera dell'Italia a tutto il mondo, quindi, voto 10 su 10, io ringrazio il Kurt e il Moro, grazie ragazzi di cuore, veramente, per avermene offerto questa copia per la recensione, e se possibile, se contenerà questa nostra collaborazione e quant'altro, le voglio tutti. Tutto quello che ci avete di sine requie, tarocchi contro tarocchi, poster, manuali, perché poi i manuali d'ambientazione, quelli vecchi, l'ho letto, però ovviamente tutto quanto materiale che è diverso da questo, però ho del Trono di Crisantemo, del Regno di Osiride, della Nuova America, non ho mai letto niente, quindi, se volete recensire anche tutti gli altri manuali, ragazzi, a me mi potete mandare una scatola arte ausibile, recensisco tutti, perché è il mio gioco preferito, quindi, grazie veramente di questa bellissima collaborazione, insomma, che abbiamo iniziato, e ragazzi, trovate in descrizione il link per comprarlo, però comunque, anche i prodotti, della Serpentarium sono venduti da Asmo d'Italia, che ancora una volta ringrazio, di cuore e saluto, e quindi li trovate praticamente in tutti quanti i negozi e ludoteche, ragazzi, bellissimo, se siete amanti come me della seconda guerra mondiale, degli zombie, di un gioco horror, meglio di questo, non c'è nulla, fidatevi, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao, alla prossima!